musica bella a tutti ragazzi sono emerald e siamo qui con il nostro terzo episodio della serie di syndicate allora per sbaglio non ho registrato comunque dietro questa porta c'era il dottore quello che si è suicidato dove noi poi con quell'affare strano ci siamo presi quel chip e ci siamo potenziati subito dopo abbiamo ucciso questo che ci ha dato quest'arma quest'arma funziona che col tasto destro noi agganciamo il nemico e dove andiamo a sparare il colpo va sul di lui ok avete capito? molto abbastanza semplice poi ancora non capito come si fa a levare ecco appena non si inquadra più il bersaglio diventa tipo a fuoco normale però come vedete i colpi vanno un pochettino a cazzo ok andiamo ok andiamo perfetto rilevazione minacce in corso ok andiamo direi ok no la Questo non si mette più il muro Ok Oh Un momento Un momento Pronto ho capito Ogni uccisione c'è un momento il 10% Con la barra dei suicidi Penso Oh che cazzo Vediamo se era quello muore Ecco infatti se è stato un momento Eppure anche un basso Per farci un uccidianti più Qua con qualcuna testa E aumenta di più E' un'altra cosa Oh god, che c'è questo? Non è che auguro l'accio. Non ti piacere. non è che è molto difficile tutto questo così ne vediamo lo scu ok ok la fumiglia scioglione più difficile dobbiamo ammazzare tutti gli altri però non mi vediamo non mi vediamo l'arma è molto fatta perché hai visto che aggancia bersagli in avvicinamento da tutti i lati dobbiamo decollare merda ok lascia il piano via ricezione coordinate dell'agente merit ricevo protocollo di aggiornamento euro che cosa è questo che cazzo è questo che cosa è questo che cosa è questo non mi interessa no simulazione tattica spazio dart avviata attivazione test prestazionale applicazione contro contraccolpo dar 6 questa applicazione sovraccarica le armi con chip e infligge lievi danni a chi le impugna inizia entra nell'area di allenamento per iniziare test inizio test attivazione applicazione contro contraccolpo solo questo area di allenamento completata dopo una violazione contraccolpo riuscita i bersagli diventano più vulnerabili per un breve periodo entra nell'area di sfida per testare il piano potenziale dell'applicazione contraccolpo eh che devo io questa sfida combina l'uso delle armi da fuoco e dell'applicazione contraccolpo inizio sfida devi eliminare il numero minimo richiesto di bersagli avrai munizioni in quantità limitate l'uomo oh oh ma la 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 no io perchè avremo sempre questo quanti volte abbiamo? 6 devi eliminare il numero minimo richiesto di bersagli avrai condizioni in quantità limitate non fa un culo ho fatto padre, colpo di questo ancora prestazioni non ottimale un baffo esci dalla simulazione quando dopo che li stiamo registrando eh no che padre ok il segnale del chip della gente è stato rilevato nel distritto commerciale ma che cazzo il segnale del chip dell'agente merit è stato rilevato nel distritto commerciale asfari ok per shift si va di qua poi se lo facciamo e andiamo di qua eh ecco ecco con una granata con una granata è una granata come cazzo si usa? e rompiamo no un gioco per centrosa anche lo fio no non sto facendo incognere l'ascensore aspetta giusto ecco scenderemo sotto minchia però ma basta eh si mia testa di cazzo ecco non so però da quanto tempo sto registrando quindi penso di finire ora il episodio quindi ci fermiamo qua dentro e bella a tutti ragazzi qua dentro